200 miglia di deserto 220 siamo fermati in un'area di sosta affollatissima e abbiamo il nostro vino ovviamente la moca pronta vedete questa è l'area di sosta l'orellina ha lasciato il vano aperto è l'unica volta nella sua vita che io ricordi che ha lasciato il vano aperto lo chiude anche quando siamo dentro il cancello di casa